Dietro c'è anche un piccolo aneddoto. L'assist l'ha dato proprio il Vescovo, perché durante il lockdown, a porte chiuse, non si poteva celebrare pubblicamente, lo sappiamo bene, mi ha chiesto di venire a celebrare pubblicamente la messa nella nostra chiesa, che poi fu trasmessa sui canali della diretta YouTube, eccetera. E a un certo punto, alla fine, mi ha chiesto di salire alla loggetta e di recitare una preghiera di consacrazione alla Madonna. Questa preghiera, ad un certo punto, dice noi ci consacriamo in questo santuario a te dedicato. Quando siamo andati in sagrestia, ho detto ma che lei sa cosa ha fatto, eccellenza? Lui mi ha detto ma cosa ho sbagliato? Nulla. Dico, lei ha detto qualche cosa di profetico, cioè ha detto qualche cosa che la gente si aspetta da anni, forse lei dice, io non lo sapevo. Che cosa facciamo? Lui ha detto, allora bisogna che diventi santuario. Quindi un passaggio burocratico semplicissimo. Il decreto è stato scritto quest'anno appositamente per il settantesimo e il Vescovo l'ha fatto consegnare al cancelliere addirittura il primo novembre. Quindi lo leggeremo a data 29, ma è stato consegnato il primo novembre. Abbiamo anche un Vescovo di uno stato straniero. Sì, sì, sì. È un ospite speciale, Monsignor Andrea. Non solo è stato parroco della Sacra Famiglia, ma è conosciuto nella nostra città, è stato sempre molto attivo, ha una grande presenza, una persona di grande significato. Quindi non potevamo non invitarlo, anzi poi il Vescovo mi aveva anche suggerito lui stesso di invitarlo, ma noi avevamo già pensato a questo. Grazie a tutti.